Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di NGMAX come potete vedere ho cambiato il mio sito completamente infatti inizialmente avevo un sito che si trovava su altervista poi successivamente ho comprato un dominio su Aruba quindi uno spazio hosting in cui praticamente ho riscritto tutto il mio sito web da capo quindi ci ho messo una settimana ho usato come framework per il CSS Materialize poi PHP, JavaScript e HTML logicamente in questo sito che vi lascio in descrizione ho intenzione di pubblicare tutti i miei articoli quindi quelli che scriverò e che ho già scritto per quanto riguarda la programmazione di Arduino, Raspberry oppure anche per quanto riguarda il setup di alcuni programmi ma soprattutto progetti innovativi con Arduino come in questo caso allora adesso prima di iniziare il tutorial volevo fare un breve tour del mio sito web in cui vi faccio vedere come l'ho strutturato allora questa è la home page in cui praticamente ho messo un pannello in cui ci sono i miei articoli più recenti qui c'è Fortnite quindi ho scritto un breve articolo per quanto riguarda la realtà virtuale e la realtà aumentata quindi ho scritto le differenze qui c'è anche la recensione di Raspberry Pi Zero e il setup di Debian quindi l'installazione di Debian, la storia e quindi ho fatto un breve articolo raccontando la storia di Debian poi recandoci in basso ho messo la mia email dove è possibile contattarmi e tutti gli scopi che ho intenzione di raggiungere attraverso questo mio sito web poi qui c'è la sezione articoli in cui praticamente ho diviso tutti i video che ho fatto in categorie qui infatti c'è Raspberry Pi e Arduino qui invece c'è Kali Linux con tutti i tutorial che ho intenzione di fare per quanto riguarda l'hacking qui infine c'è una sezione per quanto riguarda altri progetti che ho intenzione di realizzare allora qui c'è Fortnite poi qui c'è il video che ho realizzato sopra Kali Linux che vi lascio anche il link in descrizione in cui praticamente ho realizzato un breve video per quanto riguarda l'installazione di Kali Linux su pendrive e infine qui c'è l'ultima categoria in cui ci sono tutti i progetti che ho realizzato finora una sezione contatti un'altra pagina in cui praticamente scrivo chi sono quindi mi faccio una breve descrizione qui ci sono altri due bottoni in cui praticamente è possibile scrivermi infatti basta mettere il nome, un'email e fare una breve opinione su quello che potrei migliorare nel sito e infine c'è l'ultimo tasto di download dove è possibile scaricare tutti i software che finora ho utilizzato nel mio canale YouTube allora adesso richiamoci sulla sezione articoli e passiamo al tutorial vero e proprio come avrete potuto capire dal titolo oggi andremo a realizzare un progetto per quanto riguarda Arduino quindi lo scopo di questo progetto è saper creare un'applicazione nel nostro caso andremo ad utilizzare App Inventor che è un software online per lo sviluppo di applicazioni Android è una sorta di scratch quindi è un linguaggio di programmazione a blocchi quindi è una sorta di puzzle e quindi attraverso la connessione Bluetooth andare a controllare attraverso uno smartphone Android oppure un tablet Arduino vi lascio il link in descrizione di questo breve articolo che ho scritto in cui praticamente ho spiegato come funziona la tecnologia Bluetooth le differenze fra i vari moduli, i codici, i collegamenti eccetera quindi vi lascio il link in descrizione allora per questo progetto i componenti necessari sono Arduino Uno, un LED volendo una resistenza da 220 Ohm che è facoltativa un modulo Bluetooth HC06 e infine un dispositivo Android allora perché andiamo ad utilizzare un HC06? perché Arduino non ha nessun componente hardware capace di comunicare al di fuori di sé quindi attraverso l'utilizzo di questo HC06 riusciamo a instaurare una connessione fra Android ed Arduino perché senza questo modulo esterno non era possibile effettuare questa comunicazione oltre alla tecnologia Bluetooth esiste anche la tecnologia Wi-Fi quindi noi potevamo controllare Arduino attraverso un ESP8266 oppure un Ethernet Shield in questo caso andremo ad effettuare una connessione solo ed esclusivamente utilizzando l'HC06 quindi la connessione Bluetooth adesso la prima cosa da fare è effettuare l'accensione e lo spegnimento di un LED attraverso Arduino quindi il collegamento è questo andiamo ad collegare il negativo del LED sul GND e l'altro pin attraverso una resistenza in questo caso abbiamo usato 220 Ohm sul pin 13 apriamo anche Arduino sul mio sito web ho lasciato in basso il codice quindi è possibile selezionare tutto il codice copiarlo e recarci sopra Arduino ed incollare tutto ho definito una variabile LED 13 che in questo caso è un Atout perché è un LED qui accendiamo il LED aspettiamo un secondo lo spegniamo e aspettiamo un altro secondo adesso selezioniamo la porta COM 9 io uso Arduino Uno Wi-Fi adesso una volta aver selezionato la scheda e la porta possiamo caricare il nostro software il nostro sketch in questo caso come possiamo vedere il pin 13 dopo un secondo si accende e si spegne comunque realizzato anche un breve tutorial sull'accensione e lo spegnimento di un LED vi lascio il link in basso una volta verificato che il LED si accende e si spegne passiamo al modulo bluetooth allora ci sono due metodi per collegare il modulo bluetooth il primo è utilizzare i pin RX e TX e il secondo invece è utilizzare altri due pin che non siano TX e RX perché usando i pin TX e RX nel momento che noi andremo a caricare lo sketch dovremmo staccare questi due pin del modulo bluetooth perché questo? perché questi sono i due pin che usa il computer quindi la porta usb quando noi andiamo a caricare il nostro sketch dato che sono già impegnati nel caricamento del nostro sketch non è possibile effettuare un'altra comunicazione con il modulo bluetooth in questo video andiamo a vedere tutti i due collegamenti e andremo a capire qual è il metodo migliore di collegamento questo è il primo metodo di collegamento che andremo ad utilizzare quindi andiamo ad inserire il 5V quindi il VCC sopra il 5V mi raccomando non superiamo i 6V altrimenti rischiamo di rompere il modulo bluetooth poi andiamo a mettere il GND con il GND qui mi raccomando di inserire il TX sopra l'RX e invece il TX sopra l'RX quindi dobbiamo invertire e poi mettiamo il negativo del LED e l'altro pin lo andiamo ad inserire sul pin 13 adesso vediamo praticamente come effettuare la connessione questo qua è il nostro modulo bluetooth eccolo qui in cui praticamente ci sono i pin 5V GND TX e RX con rispettivi cavi maschio-femmina allora come abbiamo detto il 5V va sul 5V di Arduino ecco qui andiamo ad inserire il 5V quest'altro pin è il meno quindi lo andiamo ad inserire sul GND e infatti mi raccomando i due pin TX e RX adesso prendiamo il nostro LED con qui più e meno e il più piccolo andiamo a mettere sul GND e il più lungo sul pin 13 ecco qui adesso colleghiamo attraverso il cavo USB Arduino adesso è caricato lo sketch precedente infatti come possiamo vedere il LED lampeggia ogni secondo una volta aver collegato tutti i pin tranne RX e TX andiamo a vedere come funziona la connessione bluetooth adesso ci cerchiamo sul mio sito web in cui ho pubblicato il codice di questo primo collegamento usando TX ed RX eccolo qui se iniziamo tutto lo copiamo e lo incolliamo allora come funziona questa connessione bluetooth la prima cosa da fare è dichiarare una variabile in questo caso una variabile char di tipo 0 questo che significa che questa qui è la variabile che ci servirà quando andremo ad inviare attraverso il nostro telefono un dato da Android ad Arduino quindi questa è una variabile in cui praticamente verrà memorizzato il nostro valore che noi invieremo qui ho messo una serie al punto begin per la comunicazione seriale il pin 13 quindi l'accensione quindi l'output quindi l'accensione e lo spegnimento del LED e qui ho messo un semplicissimo if ho messo if quindi se la seriale è maggiore di 0 quindi significa che io attraverso il mio dispositivo Android ho inviato un segnale quindi un messaggio ad Arduino di prendere il messaggio sulla seriale e memorizzarlo nella variabile data dopodiché dopodiché attraverso una serie al punto println vado a stampare il dato quindi la variabile data e andiamo a vedere che valore ho inviato da dal mio dispositivo Android ad Arduino dopodiché questa variabile data viene confrontata con qualcosa in questo caso se è uguale o uguale a 1 oppure uguale o uguale a 0 quindi è una condizione se il mio telefono quindi data ha memorizzato un valore 1 allora accendo il LED 13 e stampo sulla seriale logicamente LED acceso viceversa se ricevo un valore 0 spengo il LED e stampo sulla seriale LED spento adesso selezioniamo di nuovo la porta e la scheda e carichiamo tutto su Arduino con la premessa che noi abbiamo rimasto tolti i due pin quindi RX e TX carichiamo lo sketch ecco qui come vediamo adesso è andato tutto a buon fine adesso andiamo a collegare i due pin una volta aver caricato lo sketch su Arduino prendiamo il nostro pin TX che è il filo verde e lo andiamo a collegare su RX e il filo quindi il pin RX sul TX adesso come possiamo vedere si è acceso il LED questo è un LED di stato in questo caso lampeggia perché questo? perché non c'è nessun dispositivo o mobile che si è collegato solo quando un dispositivo mobile si connette allora il LED rimane fisso una volta aver caricato lo sketch come possiamo vedere il LED non lampeggia più questo perché? perché non abbiamo inviato nessun valore quindi nessun 1 oppure nessuno 0 al nostro modulo bluetooth quindi il LED inizialmente è spento adesso facciamo una prova per vedere se dopo aver collegato RX e TX riusciamo ad inviare lo sketch carichiamo lo sketch come possiamo notare inizialmente lo sketch non viene caricato perché questo? perché come ho detto prima dato che RX e TX sono i due pin che Arduino usa per il caricamento dello sketch non viene caricato perché sono già impegnati in questo caso dal modulo bluetooth quindi il caricamento dello sketch non può avvenire adesso vediamo con il secondo metodo che io consiglio personalmente se anche attraverso i pin collegati riusciamo a caricare lo sketch il secondo collegamento che adesso andremo a fare è questo qui identico a quello di prima solo che invece di usare i pin RX e TX di Arduino andiamo a simulare RX e TX che in questo caso sono i pin 2 e 3 quindi andiamo a collegare il pin 2 sopra al TX e il pin 3 sopra RX adesso vediamo come si fa praticamente come abbiamo visto non siamo riusciti a caricare lo sketch perché RX e TX erano già occupati da Arduino adesso prendiamo i nostri due pin quindi la prima cosa da fare è staccare Arduino il pin RX va sul pin 3 quindi quello viola va sul pin 3 e il pin TX TX che è quello verde va sul pin 2 e ricolleghiamo di nuovo il led attacchiamo porto USB una volta effettuato il collegamento ci richiamo di nuovo sul mio sito web scendiamo in basso e copiamo tutto questo sketch una volta aver copiato tutto ricarichiamo sempre selezionando prima la porta e poi la scheda anche con i pin messi come possiamo vedere non c'è stato nessun errore questo perché? perché dato che i pin RX e TX sono liberi abbiamo potuto caricare il nostro sketch tranquillamente adesso andiamo a spiegare come è strutturato il mio sketch la prima cosa da fare è includere questa libreria che è già inclusa in Arduino quindi non c'è bisogno di scaricare niente poi ho inserito due variabili che sono rispettivamente il TX3 e RX2 quindi simulare un'altra porta seriale quindi un'altra comunicazione seriale con una variabile che ho scritto io e bluetooth i pin sono 2 e 3 e come sempre la nostra variabile è di tipo data che è una variabile in cui andremo a memorizzare il nostro valore dopodiché ho dovuto inizializzare la nostra nuova connessione seriale l'ho chiamata bluetooth dopodiché abbiamo fatto la stessa cosa di prima quindi se la mia connessione bluetooth riceve un valore quindi è maggiore di 0 per forza perché se riceve un valore è per forza maggiore di 0 allora leggo il valore che mi è arrivato e lo metto in questa variabile data come sempre ho commentato anche ogni riga dopodiché andiamo a ristampare il nostro valore e qui giù abbiamo queste due condizioni che se il valore che noi abbiamo avviato da smartphone o da un dispositivo android è uguale a 1 allora andiamo ad accendere il led e andiamo a stampare sulla nostra seriale led acceso o altrimenti se è uguale a 0 andiamo a spegnere e andiamo a stampare sulla seriale che il led è spento mi raccomando di impostare la stessa velocità di comunicazione sia qui che qui in alto adesso quindi nel nostro monitor seriale andare a selezionare la stessa velocità quindi se qua mettiamo ad esempio 19200 anche qui andiamo a mettere 19200 o viceversa l'importante è che siano uguali una volta aver verificato questi due collegamenti che premetto io consiglio il secondo perché in questo modo non dobbiamo ogni volta attaccare oppure staccare il led nel momento del caricamento l'unica pecca volendo è che andiamo ad utilizzare altri due pin ad esempio se andiamo a realizzare un progetto una macchina telecomandata i pin sono pochi logicamente inizialmente è possibile caricare lo sketch utilizzando i pin rex e tx e quindi andare a recuperare questi altri due pin quindi nel mio caso dato che è solo l'accensione e lo spegnimento di un led è consigliabile utilizzare il secondo collegamento quindi ogni volta non scollegare e attaccare i pin ma caricare tranquillamente una volta effettuati tutti e due i collegamenti andiamo a realizzare l'applicazione con App Inventor siccome il video credo che duri più di 20 minuti la seconda parte quindi la creazione dell'app utilizzando App Inventor uscirà settimana prossima vi lascio un link in descrizione dove è possibile trovare tutti i file che ho utilizzato in questo tutorial soprattutto anche il file APK che ho realizzato sempre con App Inventor anche il link ma soprattutto i file di Arduino quindi il led con tx e tx e il led standard cioè i pin tx e rex e i pin 3 e 2 che abbiamo utilizzato spero che il video vi sia piaciuto se avete domande oppure alcuni problemi nel montaggio di questo progetto basta commentare e vi risponderò un saluto da Injmax al prossimo video grazie a tutti i video grazie a tutti i video